Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno. Con questa prima lezione inauguriamo un ciclo di cinque lezioni dedicato al tema della concezione del divino nella filosofia moderna e contemporanea. Il nostro intento è quello di ripercorrere, in breve e con un linguaggio piano e comprensibile a tutti, le principali tappe dello svolgimento storico-filosofico del concetto di Dio e del rapporto uomo-Dio alla luce dei principali filosofi dell'Ottocento e del Novecento. Che si tratti di una evoluzione o di una involuzione dell'idea di Dio sarà lo studente a giudicare. Lo scopo del nostro lavoro è semplicemente quello di fornirgli, nella maniera più semplice e diretta, gli strumenti concettuali e storico-filosofici per poter maturare una visione ragionata e autonoma. Come sempre facciamo. Nessuna tesi di fondo, dunque, né tantomeno espressioni dogmatiche. Il percorso si prefigge l'unico scopo di attivare nello studente il pensiero critico. A Dio piacendo, aggiungo. Nella prima lezione passeremo in rassegna la svolta soggetto-centrica della filosofia moderna, da Cartesio all'idealismo hegeliano, per poi trattare l'annuncio nicciano della morte di Dio. Nella seconda lezione parleremo del divino come alienazione in Feuerbach e Marx e con Freud metteremo Dio, si fa per dire, sul lettino dello psicanalista. La terza lezione sarà dedicata al divino nelle filosofie novecentesche, attraverso le voci di due grandi filosofi esistenzialisti, il francese Sartre e il tedesco Jaspers. Nella quarta lezione incontreremo due mostri sacri della filosofia novecentesca, Heidegger con la sua rivoluzione ontologica e Wittgenstein con il suo concetto di mistico. Nella quinta e ultima lezione affronteremo con Jonas il tema scottante di grande attualità del destino dell'idea di Dio dopo Auschwitz e termineremo cercando di tratteggiare un nuovo concetto di spiritualità ecumenica nella prospettiva del ventunesimo secolo. Buon ascolto. La svolta soggettocentrica della filosofia moderna. Dal cogito ergo sum cartesiano in avanti, la filosofia moderna si era caratterizzata per il progressivo spostamento del baricentro della riflessione dall'oggetto della conoscenza al soggetto conoscente, come dire, dal mondo, inteso come totalità dei fenomeni, all'uomo. L'irruzione sul palcoscenico storico-filosofico del soggetto conoscente come componente fondamentale dell'atto conoscitivo, in grado di modificarlo e dirigerlo sino ad assorbire totalmente in sé l'oggetto, ha senza dubbio determinato una svolta decisiva anche nella concezione del divino, cifra ultima e totalizzante della realtà in sé. Se l'attività del pensiero precede l'essere, penso, dunque, sono, allora la coscienza di sé, o autocoscienza, precede la coscienza del mondo, cioè delle cose che lo compongono. Prima che il mondo mi si dia, è necessario che io sia, ma dato che la dimensione del mio essere risulta connaturata con l'atto del pensare, esso finisce col risultare fondativo o rispetto allo stesso darsi del mondo. La via che conduce dal cogito cartesiano al trascendentalismo kantiano è dunque aperta. Ciò che di distintivo e di razionalmente ordinato si ritrova nell'oggetto conosciuto è lo stesso soggetto, ammettercelo. Un soggetto trascendentale, ovvero le cui funzioni catalogative e rielaborative di ciò che si presenta alla coscienza, il cosiddetto fenomeno, ovvero ciò che appare, precorrono e fondano la possibilità di comprensione razionale dello stesso. Dal soggetto kantiano al soggetto assoluto dell'idealismo hegeliano il passo è breve. Ad essere messa in discussione e negata è l'autonomia ontologica dell'oggetto della conoscenza, che pure in Kant 1724-1804 persisteva come cosa in sé, sostrato solo pensabile, il cosiddetto noumeno, ma non conoscibile del dato fenomenico. L'essere delle cose si annulla completamente nell'essere pensato. Dal soggetto non dipendono soltanto le caratteristiche razionali dell'oggetto, bensì la sua stessa esistenza. Il pensare diviene atto creativo che pone in essere le cose. Il protagonista di questa vicenda, al contempo gnoseologica e creativa, non è beninteso l'io psicologico individuale, bensì il soggetto trascendentale, un esser pensiero totalizzante che ha del tutto soppiantato l'esser cosa, l'oggettualità del reale. Il mondo ci appare razionale in quanto prodotto dello spirito assoluto che è razionalità in sé e che, nel suo processo autoconoscitivo, si fa storia. Il divenire storico, di cui il filosofo può riuscire a darsi conto attraverso la nuova dialettica triadica, tesi, antitesi, sintesi, e il luogo in cui lo spirito si manifesta, si fa fenomeno, da cui fenomenologia dello spirito, il titolo della celebre opera hegeliana del 1807. Possiamo dire che con Hegel, 1770-1831, il trapasso dal realismo, l'atteggiamento di fondo di gran parte delle filosofie antiche e medievali, al soggettivismo idealistico, è compiuto. La verità non si consegue più con l'adeguare l'intelletto alla cosa e viceversa, come uno specchio che riflette oggettivamente la realtà in sé, data una volta per tutte. Essa è piuttosto attività veritativa, processualità autocosciente, di cui si può riconoscere, nella storia dell'umanità, la direzione e il senso ultimo, tappa dopo tappa, ovvero figura dopo figura. Ebbene, il concetto di Dio, l'ens realissimum della tradizione medievale, e ancora in cartesio garante della corrispondenza delle idee con le cose in sé, non poteva non risentire di questa vera e propria rivoluzione copernicana in ambito gnosiologico e metafisico. Con progressione lenta ma inesorabile, le principali prerogative attribuite al Dio dei filosofi vengono assorbite dal soggetto conoscente, sempre più razionalizzato e dunque antropomorfizzato. Non rimane spazio per la trascendenza e per il mistero. Lo spirito assoluto hegeliano è assimilabile ad una sorta di Dio immanente, spersonalizzato, che dispiega la sua intima essenza razionale nella dialettica del divenire storico. L'ente realissimo è infine trasformato in soggettualità, calato giù nel mondo, fatto anzi coincidere con il mondo stesso. Ecco perché ciò che è reale è irrazionale, è irrazionale reale, la nota formula hegeliana. L'annuncio nicciano della morte di Dio. Queste, per sommi capi, le premesse. È come se il tradizionale concetto di Dio si fosse, poco a poco, svuotato di senso e significato, accrescendo a dismisura, dall'altra parte, la funzione della croissant scientifica ed illuministica. Una specie di travaso da vasi comunicanti. Visto da quest'ottica, il pensiero moderno rappresenta un ponte che va dal teocentrismo medievale all'antropocentrismo, tutto dispiegato, dell'idealismo ottocentesco. L'evento culminante di questo percorso, da cui potremmo dire prende simbolicamente le mosse e la contemporaneità, è il celebre annuncio nicciano della morte di Dio. Parlare del divino nella filosofia e nella cultura europea tra 800 e 900 significa essenzialmente evocare la graduale presa d'atto collettiva della scomparsa del Dio della tradizione cristiana, provare a giustificarla, farci conti a vari livelli. E non si tratta di un'operazione indolore. Non basta dire, toh, Dio non c'è più, era solo un'illusione. Realizzare che il tempo del Dio con cui l'Occidente si era identificato per secoli è finito o in procinto di finire significa essenzialmente assumersi la responsabilità di dover ripensare il senso della collocazione dell'uomo nel mondo, i confini entro cui si estende il suo orizzonte culturale, esistenziale, etico e socio-politico. Se Dio altro non è stato che lo specchio in cui l'uomo si misurava con la propria immagine deformata in senso infinitivo e moralmente positivo, come ad esempio sostiene Feuerbach, c'è da chiedersi ora a quale immagine di sé si possa fare riferimento e su quale sfondo, la quale prospettiva diventi lecito osservarsi. Già che, come ebbe a dire Dostoevsky, se Dio non esiste tutto è permesso. Ma se tutto è permesso qual è il discrimine tra bene e male, realtà e illusione, senso comune e pazzia? Non a caso è un uomo folle a proclamare che Dio è morto, Gott ist tot, nell'aforisma 125 della Gaia Scienza di Friedrich Nietzsche, pubblicata nel 1882. Vale la pena leggere attentamente il passo. È agghiacciante. L'uomo folle. Avete sentito di quel folle uomo che accese una lanterna alla chiara luce del mattino, corse al mercato e si mise a gridare incessantemente, cerco Dio, cerco Dio. E poiché proprio là si trovavano raccolti molti di quelli che non credevano in Dio, suscitò grandi risa. È forse perduto? disse uno. Si è perduto come un bambino, fece un altro. Oppure se ne sta ben nascosto? Ha paura di noi? Si è imbarcato? È emigrato. Gridavano e ridevano in una gran confusione. Il folle uomo balzò in mezzo a loro e li trapassò con i suoi sguardi. Dove se ne è andato? Dio gridò. Ve lo voglio dire. Siamo stati noi ad ucciderlo. Voi e io siamo noi, tutti i suoi assassini. Ma come abbiamo fatto questo? Come potemmo vuotare il mare bevendolo fino all'ultima goccia? Chi ci dette la spugna per strusciarvi all'intero orizzonte? Che mai facemmo a sciogliere questa terra dalla catena del suo sole? Dov'è che si muove ora? Dov'è che ci muoviamo noi via da tutti soli? Non è il nostro un eterno precipitare e all'indietro, di fianco, in avanti, da tutti i lati? Esiste ancora un alto e un basso? Non stiamo forse vagando come attraverso un infinito nulla? Non alita su di noi lo spazio vuoto? Non si è fatto più freddo? Non seguita avvenire notte, sempre più notte? Non dobbiamo accendere lanterne la mattina? Nello strepito che fanno i becchini mentre seppelliscono Dio? Non odiamo dunque nulla? Non fiutiamo ancora il lezzo della divina putrefazione? Anche gli dèi si decompongono. Dio è morto. Dio resta morto e noi lo abbiamo ucciso. Come ci consoleremo noi, gli assassini di tutti gli assassini? Quanto di più sacro e di più possente il mondo possedeva fino ad oggi, si è dissanguato sotto i nostri coltelli. Chi detergerà da noi questo sangue? Con quale acqua potremmo noi lavarci? Quali riti espiatori? Quali giochi sacri dovremmo noi inventare? Non è troppo grande per noi la grandezza di questa azione? Non dobbiamo noi stessi a diventare dei per apparire almeno degni di essa? Non ci fu mai un'azione più grande. Tutti coloro che verranno dopo di noi apparterranno in virtù di questa azione ad una storia più alta di quanto mai siano state tutte le storie fino ad oggi. A questo punto il folle uomo tacque e rivolse di nuovo lo sguardo sui suoi ascoltatori. Anch'essi tacevano e lo guardavano stupiti. Finalmente gettò a terra la sua lanterna che andò in frantumi e si spense. Vengo troppo presto proseguì. Non è ancora il mio tempo. Questo enorme avvenimento è ancora per strada e sta facendo il suo cammino. Non è ancora arrivato fino alle orecchie degli uomini. Fulmine e tuono vogliono tempo. Il lume delle costellazioni vuole tempo. Le azioni vogliono tempo. Anche dopo essere state compiute perché siano vedute e ascoltate. Quest'azione è ancora sempre più lontana da loro delle più lontane costellazioni. Eppure sono loro che l'hanno compiuta. Si racconta ancora che l'uomo folle abbia fatto irruzione quello stesso giorno in diverse chiese e quindi abbia intonato il suo requiem eternam Deo. Cacciatone fuori e interrogato. Si dice che si fosse limitato a rispondere invariabilmente in questo modo. Che altro sono ancora queste chiese se non le fosse nei sepolcri di Dio? Quest'uomo folle rappresenta un personaggio fino ad allora del tutto sconosciuto alla cultura europea. Perché inedita è la forma di pensiero divergente attraverso cui si manifesta la sua pazzia. Negare l'esistenza di Dio in passato costituiva un chiaro segno di insania se non di possessione diabolica o altrimenti si poteva diventar pazzi di Cristo come Jacopone da Todi per eccesso di devozione. La lucida demenza del personaggio nicciano che si richiama da presso alla figura di Diogene il cinico detto il Socrate pazzo il quale lanterna la mano in pieno giorno andava a caccia dell'uomo consiste invece nel cercare Dio in un'epoca e in mezzo a gente che semplicemente non si pone più il problema della presenza del divino nel mondo che da tempo vive come se Dio non ci fosse . Per secoli filosofi e teologi si erano arrovellati nella ricerca di argomenti razionali che sostenessero l'esistenza di Dio. A guidarli era stato il pungolo della fede, il comune umus culturale di appartenenza nonché la necessità di convincere caritatevolmente l'ateo dissidente. Di contro in età moderna gli alfieri del laicismo e dello scientismo avevano cercato di comprovare la sua non esistenza. Anche quel tempo è passato, giacché, afferma Nice in Aurora del 1881, oggi si mostra come ha potuto avere origine la fede nell'esistenza di un Dio e per quale tramite questa fede ha avuto il suo peso e la sua importanza. In tal modo una contradimostrazione della non esistenza di Dio diventa superflua. La fede o piuttosto l'istinto di vita precedono la ragione e le sue pretese onnicomprensive. Figlio di un pastore luterano, il filosofo tedesco ben sapeva che Dio non si dimostra, si teme e si adora. Il disamore degli uomini, il credere di poter fare a meno di lui, l'essersi arrogati prerogative divine, ne ha decretato la morte. Si è trattato dunque di un deicidio. Ma chi lo ha ammazzato? La gente del mercato, ovvero tutti noi, la nostra desacralizzante visione del mondo, il nostro concreto stile di vita? Ebbene, costui non è ancora cosciente di avere le mani marchiate del sangue divino. Non si capacita dell'enormità del gesto. La sacra apazia del novello diogene sta tutta nella sua capacità di profetizzare le conseguenze vicine e remote di questo evento epocale, presagendo ciò che ai più sfugge. Essi non sanno della loro condizione di ateo devoti, di orfani alle prese con un complesso edipico di portata planetaria. Sono nichilisti inconsapevoli, giacché la notizia del deicidio è ancora per strada. Eppure già si fa buio e un vento gelido alita su tutti noi. Il destino dell'Occidente ha dunque per nome nichilismo, di cui Nice fu uno dei primi teorizzatori. Un dramma metafisico che si riverberà nella storia del Novecento, proiettando ombre inquietanti sin su questo scorcio di inizio secolo. La parola nichilismo è composta dal latino nichil, nulla, unitamente al suffisso ismus, che generalmente si riferisce ad una ideologia, una dottrina, un movimento politico, religioso. Nichilista è dunque chi sceglie l'assenza di senso e di valore al posto della pienezza ontologica e morale assicurata dalla presenza divina. Chi, consapevolmente o meno, mette il nulla al posto dell'essere? Perché la sanguinosa dipartita del dio ebraico cristiano non riguarda soltanto la sfera religiosa. Il grande defunto reca con sé nella tomba l'intera metafisica occidentale, basata sull'essere parmenideo, sul concetto di parola, logos, verità, salvifica, sul principio che esista qualcosa di immutabile e di permanente, al di là della disorganica mutevolezza del mondo sensibile, in grado di fornirgli, in sommo grado, ordine e sensatezza. Con Dio è giunta al tramonto la credenza in quel mondo delle idee platonico, specchio razionale perfetto della nostra umbratile, terrestrità. Il velo è caduto, la natura mostra il suo volto di gorgone. La finzione non sta più in piedi, giacché la sua funzione consolatoria si è di fatto esaurita. Non rimane alcuno spazio per la trascendenza, per un bene superno, per un fine ultimo. Nessun oltre è più in vista. Questa vita qui, nel suo caotico, tragico e al contempo meraviglioso, fluire e circolare, rappresenta la cifra ultima del nostro destino, che dovrebbe aprire e ultimare il nuovo orizzonte metafisico dell'Occidente. Ma occorre voler essere degli oltre uomini, übermenschen, per sposare in piena una visione del genere, avere occhi e stomaci d'aquila, per poter lungi mirare e digerire quel che profetizzerà lo Zaratustra nicciano. Per andare oltre la voragine del nichilismo, apertasi con l'uccisione di Dio, è necessario farsi creatori di nuovi valori, ovvero in primo luogo di una nuova idea di sacralità, una responsabilità che si è rivelata troppo grande per un'umanità, quella del Novecento, passivamente nichilista e senza qualità, come è stata descritta nel celebre romanzo di Robert Musil. Anche se l'uomo folle dichiara di essere giunto troppo presto, poiché fulmine e tuono vogliono tempo, troppo profonda e vasta è la portata dell'evento. La civiltà occidentale e la sua autocoscienza filosofica da quel momento in poi non saranno più le stesse. L'annuncio della morte di Dio segna dunque uno spartiacque storico, di cui conosciamo abbastanza bene il prima, ma ad oltre un secolo di distanza riusciamo solo ad intravedere il dopo, ammesso che si riesca ad intravedere qualcosa dopo, ovvero che si riesca a guardare oltre la voragine caotica del nulla.